A soffrire della sindrome del Long Covid sono per lo più le donne, lo rivela uno studio pubblicato su una rivista scientifica, Alba Di Palo. Le donne hanno maggiori probabilità di soffrire di Long Covid rispetto agli uomini, accusando sintomi sostanzialmente diversi. A riferirlo è uno studio pubblicato sulla rivista Current Medical Research and Opinion, sottoposto a revisione paritaria. Il Long Covid è una sindrome in cui le complicanze persistono per più di 4 settimane dopo l'infezione iniziale di Covid-19, a volte per molti mesi. I ricercatori hanno rilevato che le donne con Long Covid presentano problemi a orecchie, naso e gola, oltre a disturbi dell'umore, neurologici, cutanei, gastrointestinali e reumautologici, così come la fatica. I pazienti di sesso maschile, invece, hanno maggiori probabilità di soffrire di disturbi endocrini, come il diabete, e disturbi renali. La conoscenza delle differenze è alla base delle manifestazioni cliniche e della progressione della malattia e degli esiti sanitari di Covid-19 fondamentale per l'identificazione e la progettazione razionale di terapie efficaci e di interventi di salute pubblica che siano inclusivi e sensibili alle potenziali esigenze di trattamento differenziale di entrambi i sessi, spiegano gli autori, sottolineando che le donne sviluppano risposte immunitarie innate e adattive più rapide e robuste che possono proteggerle dall'infezione iniziale. Tuttavia questa stessa differenza può rendere le donne più vulnerabili a malattie autoimmuni prolungate, sostengono gli scienziati. Grazie. 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 Grazie.